AUNA Redamenti è un'azienda leader nella progettazione e produzione di ambienti su misura per attività commerciali, quali hotel, bar, ristoranti, negozi, uffici e residenze private, realizzando sia opere parziali che chiavi in mano. Grazie all'esperienza maturata al fianco di grandi committenti internazionali, si propone come partner ideale per imprese professionisti che operano nel settore del contract, qualità progettuale, realismo operativo ed efficienza realizzativa. Vi aspettiamo nella sede operativa, zona industriale, via Giovanni Santi 18, Fanano di Gradara. Al Maggi, debutto stagionale per i Gabice Gradara, che considerate le ultime tre stagioni alla prima, ha ottenuto, compreso con l'Odieno, una vittoria e due pareggi. L'avversario si chiama Villa San Martino, che tra le proprie file vanta due giocatori d'esperienza come Paolo e Tonucci. I Gabice Gradara, in versione New Generation, in panchina si affida all'ex Torconca Filippo Vergoni, in campo ad alcuni giocatori protagonisti negli ultimi anni nel campionato di promozione Romagna. I rosso e blu sono orfani di Varrella, Cherubini e Montebelli. Abita la gara Simone Malascorta della sezione di Iesi, qua adiuvato da Matteo Malateste e Florin Murarasu della sezione di Ancona. Si inizia con un piccolo ritardo dovuto a un buco nella rete, ma per chi non avesse mai avuto modo di vedere il campionato di promozione Romagna, Matteo Renzetti si presenta così al pubblico amico, con Balleroni che vede neutralizzare il primo tiro del match. Al ventunesimo gli ospiti vanno vicinissimi al gol, dall'angolo il pallone carambola su di calo che centri il palo e successivamente nessuno degli ospiti riesce, itta più in vincente. Attenzione, I Gabice Gradara sa soffrire ma anche pungere, manca poco quando Pierri elabora questo gioco di gambe con il pallone tra i piedi per scaricare sulla corrente mani. L'ex Rimini vede dinanzi a sé un super cocco a Negali, la gioia del gol. Dall'altra parte, timidi tentativi del Villa San Martino, Paolo dice che tiro cross che per poco non so prendere Renzetti, da punizione lo stesso numero 4 appoggia per Tartaglia che alza la mira. L'ultima azione per i 45 minuti porta proprio la firma da caccio piazzato di Tartaglia, ma il numero 3 dimostra poca confidenza con i gol. Nella ripresa, I Gabice Gradara viene fuori e dimostra tutto il suo atteggiamento. A dare un messaggio a Cocco ci pensa Giunchetti, ma il numero 7 non inquadra il bersaglio. Lo stesso Cocco deve allungarsi per evitare pericoli maggiori su questo traversone. I Gabice Gradara preme e Giunchetti arriva nuovamente alla conclusione con Cocco costretto a raccogliere questa volta il cuoio. Momento Villa San Martino, la conclusione di Paoli spaventa Renzetti, ma è davvero bella la percussione poco dopo a cura del numero 4, che nel momento della battuta finale viene disturbato dal compagno Pedini, ma Renzetti è ancora una volta super. Vantaggio rimandato di un giro di lancetti dall'angolo, infatti il pallone attraversa l'area di rigore, e il secondo palo Tonucci, dimenticato, in spaccata, realizza lo 0-1, togliendosi un sassolino dalla scarpa, rispondendo alle critiche ricevute a fine plurotempo. Dopo il gol, I Gabice Gradara lascia ancora qualche spazio, Pedini non ne approfitta, il rosso-blu oggi Maglia Bianca ringrazano i compieri, confezionano il gol del pareggio. Il numero 9 gioca con i palloni tra i piedi, realizzando un tocco soft finale, che chiede al neoventato Donati, alla sua seconda apparizione Maglia Gabice, di alzarsi e spedire i testi in fondo a sacco il pallone dell'1-1, con l'attaccante che batte forti il petto e il logo del club. Più di tutti ha voluto fortemente e nuovamente questi colori, dopo che le parti si erano lasciate con un ottimo ricordo. Finale di Marco Gabice Gradara, qui Giunchetti vorrebbe rigore dopo l'intervento di Paoli, l'arbitro non è dello stesso parere. 30 secondi dopo, fischia una punizione che lo stesso Giunchetti provvede a calzare alto. Sul fine di tempo, purtroppo, la nota stonata della giornata, l'infortunio a Casoli, che si infortuna senza che tra l'altro l'arbitro se ne accorgesse. Poi il forte dolore, distorsione a ginocchio per lui, si fa sentire e verrà portato fuori dai soccorritori. Piuttosto auguri di pronta guarigione. La gara termina qui, un punto che serve a mantenere buona la tradizione per i Gabice Gradara, che vede il rosso-bru sorridere sempre alla prima giornata, anche se questa volta si tratta di un sorriso a metà. Vergoni ha potuto raccogliere le prime indicazioni per la formazione di una squadra praticamente tutta nuova. Il Vila San Martino si è dimostrato avversario ostico, buona la prima, anche per loro.